Un atto violento, discriminatorio. Questo è negare dei diritti e andare contro i diritti di alcune persone che lottano tutti i giorni per qualcosa in cui credono. Non si può tappare il sole come un nido. La sede di Arcighei, situata nel centro di Salerno, è stata distrutta dai gnoti che non hanno rubato nulla. Questo è uno spazio dove normalmente avvengono riunioni, incontri, attività del gruppo giovane soprattutto. Svolgiamo attività di centro d'ascolto, quindi facciamo accoglienza sia di persone galassiche e lesbiche che di persone trans che comunque necessitano di un ascolto, di un'accoglienza. Torno alle sette e mezza abbiamo trovato il portone esterno, che è quello in ferro, che è praticamente lasciato oggetto di uno foro, praticato probabilmente con una tenaglia, spaccato la serratura esterna. Da lì hanno poi vandalizzato la porta interna, che è una porta a vetri, e hanno incominciato a distruggere, a buttare per aria quello che c'era all'interno. Intorno a noi ci sono ulteriori segni di violenza, perché così la cominciamo a chiamare. C'erano manifesti, c'erano materiali che sono stati buttati per aria. Noi ci siamo resi, comunque non era stato rubato nulla. Ci sono computer, stampanti, è rimasto tutto lì dove era. E questo è l'aspetto un po' più inquietante della vicenda, perché ci fa pensare a un atto violento, discriminatorio, a un atto intimidatorio. Laura Boldrini, ex presidente della Camera, ha visitato la sede vandalizzata, esprimendo la sua vicinanza. E d'altra parte sarebbe anche conseguenza di un clima che sta staturando molto il nostro crescente sociale. perché il clima di, come dire, di ferocia, di chiusura, il clima oscurantista in cui stiamo vivendo sta facendo uscire il peggio di tutti. Penso che questo gesto, più che essere un gesto rivolto all'Archiglia Macella di Polco, dovrebbe far soffrire tutti quanti i membri di tutte le comunità che lottano per dei diritti. Perché non è semplicemente rompere una porta, fare un atto vandalico, questo è negare dei diritti e andare contro i diritti di alcune persone che lottano tutti i giorni per qualcosa in cui credono. A questa sede, per me, ma anche per altri, è il primo punto di ritrovo sicuro. Insieme abbiamo creato un gruppo di giovani che vengono qui, discutono, fanno delle attività, possono ritrovarsi al sicuro, discutere le loro insicurezze, dei loro problemi. Questo attacco non è niente altro che la dimostrazione di un clima che già si sa che si arpeggiava in giro per questa città. Sono venuta qui proprio per testimoniare la vicinanza del Circo L'Archiglia e Basilicata. Eventi come questi mettono in risalto la vigliaccheria e soprattutto la miseria umana. Non si può tappare il sole con un dito, noi continueremo a lavorare ancora più con capabilità e con convinzione. C'è paura in questo momento? No, non tanta paura, c'è stato un attimo di disagio, di tristezza, diciamo, però insieme ci diamo forza e di certo non ci fermeremo dopo questo. Non è la prima volta che si verificano episodi di questo tipo, siamo stati già oggetto di altri episodi analoghi, questo tuttavia non ci ferma e la nostra determinazione è totale a tutela dei diritti di tutte e di tutti. Grazie per la visione! Grazie per la visione!